Dal Salone Margherita va ora in onda Biberon. Stoppi, stoppi, non sei tu a fare l'annuncio, dunque. Dal Salone Margherita! Buone, 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 buone! Ma che parole sono questi buoni davanti all'Onorevole? Ma cosi pazzi va? Ma no, ma come che parole? Ma qua siamo una folla a fare questo annuncio. Avanti gli Onorevoli, i ballerini, gli imitatori, le ballerine! Avanti tutti! Sì, siamo pronti, siamo pronti! Silenzio! Sette, otto! Biberon! Martedì, ore 21 e 30. Sozai una! Ma dillo in italiano. Sì. Sozai one! Italiano, eh? Eh.